Per me lo sport nella vita rappresenta tutto perché è ciò che mi rende felice ed è ciò che voglio fare perché l'equitazione rappresenta la mia vita. Ho scelto questa disciplina un po' per caso, inizialmente infatti facevo completo e poi due anni fa mi sono buttata nel mondo del paradressage e mi sono subito innamorata di questa nuova disciplina appunto. Le persone più importanti nel mio percorso sportivo sono state sicuramente la mia famiglia, mia madre, mio padre e le mie sorelle e ora Gea che mi sta aiutando e a cui voglio veramente molto bene. Del mio sport amo tutto perché soprattutto appunto il rapporto che si crea con il cavallo perché è fondamentale il cosiddetto binomio sia per affrontare gli allenamenti quotidianamente ma soprattutto nelle competizioni. L'unica nota negativa potrebbe essere il fatto che la puzza di cavallo poi mi accompagna per tutta la giornata. L'atleta a cui mi ispiro è Charlotte de Jardin e un giorno vorrei diventare come lei. Se non avessi fatto l'atleta ora mi immagino a farla psicologa perché è quello che ho studiato e poi magari un giorno riuscirò a fare entrambe. Una volta terminata la carriera vorrei diventare un bravo tecnico e appunto far crescere altre persone come i tecnici hanno fatto con me. Il momento sportivo più bello e quello che ricordo con più piacere è stata la trasferta a Kronenberg in Olanda perché è stato il mio primo internazionale ed è appunto stato fantastico. Prima di una competizione entro nella mia bolla e mi siedo in una palla e ripeto la ripresa immaginandomi a cavallo. La notte prima di una gara sento abbastanza la tensione e mi ripeto appunto dentro di me la ripresa per cercare di dare il meglio. Quest'anno di pandemia è stato un anno durissimo, ci siamo continuati ad allenare e sicuramente lo sport aiuterà a ripartire perché lo sport rappresenta veramente una parte importante del nostro paese. La vittoria ai giochi la dedicherei a Ghea che è appunto il presidente dell'associazione WorldSoul con la quale monto, a mia madre e mio padre e a tutto il team WorldSoul che ha lavorato duramente al mio fianco insieme a me. Tutti gli avversari secondo me sono temibili ma per me l'importante è far bene e poi il resto verrà da sé. Sarebbe bello essere tutti a cena insieme e condividere appunto i momenti migliori. Il mio piatto forte è il pollo al curry. Il prossimo viaggio che farò dopo Tokyo sarà sicuramente in Olanda e sarà un po' un viaggio all'avventura. In un talent mi metterei a fare i tatuaggi con Ago e Kina. La mia serie tv preferita è La Casa di Carta. Il mio brano preferito è Arnica di Joe Evan perché è quello che più mi rappresenta. La parola resilienza è una parola che significa molto perché appunto dovremmo tenerla a mente nei momenti difficili della vita. Non bisogna mai mollare di fronte a nessuna difficoltà e forse nella mia vita ha rappresentato molto. Infatti sono nata senza l'avambraccio e la mano sinistra e la mia famiglia mi ha aiutato ad affrontare ogni ostacolo e a non mollare di fronte alle prime difficoltà.